Io credo che per spazi adolescenti non si debba necessariamente intendere uno spazio fisico, ma piuttosto una più generica offerta attiva di servizi rivolti agli adolescenti o aggiungerei anche ai giovani adulti. Proprio in questo senso gli spazi adolescenti possono avere varie conformazioni che vanno da interventi più storici, quali promozione della salute sessuale nelle scuole, interventi citati e raccomandati dalla normativa istitutiva dei consultori, a interventi di tipo più comunitario, rivolti alla popolazione per sensibilizzare la popolazione stessa. A questi spazi adolescenti, a queste tipologie di offerta, vanno aggiunti i consultori giovani interamente dedicati ai minori, ovviamente del tutto gratuiti, con facilità di accesso e attenti alle loro necessità di riservatezza, nonché diciamo anche con orari più congrui nel rispetto proprio delle loro esigenze, prima fra tutti quelle scolastiche. C'è poi uno spazio che è il consultorio psicologico, che è un'altra conformazione degli spazi adolescenti, dove si affrontano varie problematiche legate alla salute dell'adolescente, alla salute emotiva, relazionale e affettiva e alle criticità legate al loro sviluppo. A questi si possono poi aggiungere specifici progetti o servizi legati proprio al rapporto fra l'adolescente e l'adulto, sia esso genitore o educatore o insegnante, o comunque adulti rilevanti nella loro vita. In ultima istanza, io credo che gli spazi adolescenti debbano configurarsi anche come un modello di lavoro molto complesso e congiunto, fra tutti gli operatori consultoriali che a vario titolo si occupano della salute dei più giovani. I consultori familiari incontrano i ragazzi, oltre che negli spazi giovani, anche nelle scuole, ma al fine di parlare con loro su temi di prevenzione. Termi di prevenzione relativi ai loro comportamenti, che spesso sono comportamenti che gli spongono a rischi del tipo malattie sessualmente trasmesse, gravidanze indesiderate. I ragazzi, per chi lavora nei consultori familiari, sono una vera forza della natura e loro, con tutte le loro bizzarrie, talvolta ci fanno arrabbiare, ma ci danno la consapevolezza che è necessario essere partecipi nei progetti di promozione della salute, affinché possano maturare la consapevolezza del loro stato di salute e mantenere la loro salute. Oltre a questo, incontrare i ragazzi a scuola ha fondamentale importanza per far conoscere i consultori familiari. Ci rendiamo conto, quando li incontriamo, che difficilmente hanno conoscenza di queste strutture che si trovano sul territorio e rimangono anche stupiti talvolta che esistano dei servizi che affrontino questo genere di temi, quindi temi dell'affettività, della sessualità, che ancora oggi, nonostante ci sia molta libertà di pensiero, di potersi relazionare, c'è ancora molto tabù a trattare questo genere di argomenti. Quindi, nelle scuole noi incontriamo i ragazzi, ma incontriamo anche gli insegnanti e possibilmente anche i genitori perché si viene a creare così una sinergia di adulti che dialogano con i ragazzi anche su questo genere di temi. Senza dubbio i giovani in questi 40 anni sono cambiati, ma d'altronde mi basta pensare che i miei genitori erano giovani e adolescenti a ridosso della nascita dei consultori. Io lo sono stato sulla fine degli anni 80, ho oggi una figlia adolescente, mi basta un po' avere in testa questi tre fotogrammi per capire che molte cose sono cambiate. Non tutto, nel senso perché incontrando giovani ragazzi nei consultori oggi, sono loro la testimonianza che molti pensieri, molte emozioni, molti dubbi, le loro relazioni sono, non dico sovrapponibili, ma simili a quelli che abbiamo vissuto noi. Altre cose sono cambiate, senza dubbio. Credo anche per piccole e grandi rivoluzioni socioculturali che hanno attraversato questi 40 anni, che è difficile sintetizzare. Le prime cose che mi vengono in mente è una rivoluzione narcisistica, diciamo così, che vede un po' i ragazzi di oggi un po' più ripiegati su se stessi, non solo dal punto di vista estetico, sono un po' più esposti al timore del fallimento, alla vergogna, all'essere un po' iperinvestiti nei loro progetti. Sicuramente un'altra rivoluzione è stata la commercializzazione della loro età. L'adolescenza è presidiata da un punto di vista consumistico e alcune aree di esperienza al suo interno. La sessualità, che è un tema fondamentale per i consultori familiari, lo è altrettanto. È difficile pensare a un prodotto per i più giovani, nella filmografia, nella discografia, nella moda, nella stessa letteratura, nell'elitoria per i più giovani, che non sia testimonianza di un utilizzo strumentale, funzionale della sessualità. Ultima rivoluzione, forse quella che abbiamo un po' sotto mano tutti, anche solo con lo smartphone nelle nostre mani, è la rivoluzione digitale, che su cui poggiano nuove relazioni, nuove seduzioni, nuove visibilità, anche nuovi rischi, anche nuove violenze. Fortunatamente tanti operatori consultoriali, anche la regione Piemonte, stanno cominciando a muoversi anche su questi nuovi territori, dove è più difficile a volte trovare i confini del proprio agire professionale, della propria responsabilità. Però credo che rappresenti anche una bellissima sfida per la salute dei nostri giovani.